linda faceva la manager in una grande azienda di telecomunicazioni ma un evento inaspettato le ha fatto cambiare strada e oggi si dedica alla fotografia e soprattutto è diventata una life coach con lei capiremo proprio chi è e cosa fa una life coach e ci spiegherà come funziona l'accademia della felicità scoprirete come ritrovare la creatività perduta con la via dell'artista e perché è così importante tenere un diario della gratitudine io sono edoardo scogno emilio e io sono federico favotto siamo pronti ad accherare la creatività di linda gerlini abbiamo il benvenuto a linda ciao linda ciao e partiamo subito con una domanda a bruciapelo chi è un life coach e cosa fa allora un life coach è una persona che ha studiato si è formata in una professione che è dedicata all'aiuto degli altri il coaching in generale è una professione d'aiuto è differente da altre professioni d'aiuto perché va a lavorare con una persona che è già diciamo in una situazione abbastanza stabile abbastanza consolidata non è una professione d'aiuto come la psicoterapia piuttosto che il counseling che va a lavorare sul passato sui dolori della persona ha avuto un problema nell'infanzia non è questo non è assolutamente questo una persona che ha questo tipo di problemi anche se può capitare di incontrarla durante la sessione di coaching per la parte relativa al passato viene come dire viene indicato di andare da altri specialisti quello che noi facciamo è aiutare una persona che ha un obiettivo o comunque sa che vuole vuole qualcosa ma magari non è ancora ben definito e lo aiutiamo a definirlo a capire qual è l'obiettivo e lo aiutiamo a raggiungerlo facciamo questo diciamo è il coaching il life coaching si indirizza alla vita a 360 gradi della persona è quello che piace fare a me rispetto ad altre tipologie di coaching che sono più legate alla parte business o piuttosto che la carriera quindi uno sviluppo della carriera una persona che non è soddisfatta del suo lavoro vuole lavorare sulle sue competenze vuole lavorare sui suoi talenti sulle sue potenzialità professionali allora si fa un percorso di career coaching quindi un coach come lo fai tu intercetta persone che dicono voglio fare un cambiamento nella mia vita che sia personale che sia professionale però da solo bisogno di una spalla come dire ho bisogno di un allenatore qualcuno che coach in realtà deriva da allenatore quindi ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a definire nel dettaglio gli obiettivi se non ce li ho chiari e poi a definire quello che è una strategia di coaching per raggiungere l'obiettivo creare un piano di azioni da portare avanti la cosa importante è che il coach con la persona che si rivolge a lui si stabilisce crea una correlazione co crea una relazione diciamo bene co crea la relazione e quindi è una situazione molto alla pari quindi io lavoro con una persona che è risolta abbastanza e vuole a parte da un punto a e vuole arrivare a un punto b e l'aiutiamo a capire qual è dov'è dove adesso e dove vuole andare e come raggiungere l'obiettivo quello che piace a me è di più lavorare sulla vita a 360 gradi il lavoro fa parte della vita dal mio punto di vista noi non siamo il nostro lavoro siamo tante cose oltre il lavoro per quello che ho visto io lavorando anche con persone che arrivavano pensando di avere un tema di lavoro in realtà spesso e volentieri hanno una vita molto sbilanciata sulla parte professionale e un po più vuota dal punto di vista della vita personale spesso e volentieri molti problemi che le persone hanno sul lavoro si risolvono arricchendo la vita personale quindi lavorando su il resto dei 360 gradi quindi sul tempo libero sulle relazioni fondamentalmente sono queste sulle relazioni che le persone hanno con il denaro le relazioni che hanno con le persone in questo la cosa che mi ha molto colpito della della vostra accademia è il nome perché si chiama accademia della felicità quindi diciamo e non ha quel solito nome anglosassone per fare il figo no esatto cioè e poi molti italiani accademia della felicità è molto bello e proprio dal vostro sito no c'era questo che mi ha molto colpito voi dite aiutiamo le persone a pensare meglio non diciamo loro cosa devono fare sì sì questo è proprio tipico della metodologia del coaching e una curiosità come ci sei arrivata all'accademia nel mio caso io mi sono avvicinata ad accademia nel 2013 accademia esiste dal 2011 in un momento in cui ho avuto un tema personale piuttosto forte capita molto spesso sono stata malata ho avuto una malattia e avevo bisogno di un qualche cosa che mi aiutasse a contestualizzare nel modo giusto una malattia quindi era slegato il fatto cambio carriera completamente slegato da un tema professionale completamente slegato tu facevi altro intanto io facevo tutt'altro c'è la manager sì sostanzialmente sì e lì in quel momento cos'è scoperto e lì in quel momento ho scoperto che avevo una forza non indifferente tant'è vero che ho fatto tutto il percorso di coaching tutto l'anno io ho continuato col mio lavoro e poi nel 2017 ho deciso di chiudere l'esperienza che avevo con l'azienda e di fare le cose che che mi interessavano cioè cioè lavorare sul coaching e lavorare con la fotografia che erano le due cose questo insomma è un punto molto importante perché si possono identificare milioni di persone cioè faccio la manager nel tuo caso magari faccio l'impiegata un lavoro sicuro in un'azienda grossa eccetera cioè con la passione lì sotto che non riesco a coltivare a un certo punto mollo il lavoro per buttarmi nella passione che fatto da ventenne dici ma sì se non voglio chiederti l'età perché non si chiede l'età al signore però però diciamo che eri in un momento di carriera molto avanzato nel senso non è che avevi appena iniziato a lavorare come hai gestito questo salto non è facile non è facile nel senso che quando lavori in azienda per quanto delle volte consideri l'azienda una matrigna perché delle volte delle difficoltà in azienda l'azienda ti tutela da tantissimi punti di vista in ogni caso l'azienda ti organizza il lavoro non c'è niente da fare cioè tu sei all'interno di una struttura organizzativa sai che devi fare delle cose poi magari hai la possibilità di gestirle di farle secondo i tuoi tempi nei limiti del possibile secondo le tue capacità ma in ogni caso sei all'interno di una struttura e sai che cosa devi fare sai che a fronte di cose che fai tu ogni mese prendi uno stipendio e delle volte lo stipendio lo prendi anche se non fai tutto quello che in teoria dovresti fare e questo è estremamente comodo cioè ti fa sentire sicuro tranquillo sicuro quando ti metti in proprio e devi essere tu a organizzarti tutto a partire dall'organizzazione dalla tua giornata sei nel mare in tempesta sei fuori ci vuole ci vuole tanto io ci ho messo tanto tempo eppure c'è una persona che voglio dire lavora anche su determinate situazioni aiuto gli altri anche però obiettivamente imparare a organizzarsi e a gestirsi bene il tempo e fare tutte quelle attività che magari il tuo lavoro nell'azienda non fai io non sono mai stato un commerciale non sono un commerciale e quindi andare a lavorare magari per cercare i clienti è una cosa difficile non è facile per me perché non l'ho mai fatto cioè magari non ci pensi quando tu dici sì metto in proprio faccio questa roba perché mi piace sì però devi fare tutto un altro insieme di cose te le devi fare tu perché non c'è il collega che si occupa di andare a cercare i clienti ci pensa lui ti chiedo un'ultima cosa su questo aspetto quindi è difficile tutti girano in tante persone girano intorno al da domani lascio no girano 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 cioè il saltino com'è che si fa fare meno tu come l'hai fatto quel salto del vado mollo perché come devi fare come è avvenuto nel tuo caso perché perché alla fine avevo voglia di fare delle cose mie cioè ti sei svegliata un giorno detto vado a dare lettere di missioni così mi sono no non ti svegli un giorno a dare a fare almeno io no non l'ho fatto ci ho messo mesi ci ho messo mesi però alla fine la mia la cosa era di di non sentirsi più giusta dove dove sei in questo caso il coaching ti dà una mano a darti anche quella tranquillità con la spintarella per andare il tema forte e io l'ho visto tante volte in accademia è che il master in coaching dura un anno ed è un anno di lavoro che uno fa tantissimo su se stesso e io ho visto tantissime persone durante l'anno cambiare completamente quindi moltissime persone prendere la forza trovare la forza per chiudere delle situazioni dove non erano più a loro agio potevano possono essere personali come possono essere professionali però diciamo che sicuramente il lavoro su se stesso profondo di conoscenza di prendersi il tempo di capire se dentro certe situazioni ci stai bene o non ci stai bene aiuta tantissimo non vuol dire che tutti lasciano il lavoro che hanno è assolutamente moltissime persone riflettono sulla relazione che hanno col lavoro col posto di lavoro e magari continuano a lavorare dove dove sono in un modo che a loro è più congeniale anche riflettendo su se stesso su magari errori che le persone fanno non è che è sempre il posto di lavoro che è cattivo con te non è così e quindi le persone arrivano nell'accademia e vogliono cambiare alcuni cambiare vita alcuni cambiare lavoro alcuni trovare un centro eccetera ci sono delle delle storie che ci che ti va di raccontarci di trasformazione di queste persone immagino ne avrei viste tante anche la domanda che mi viene a me adesso è come funziona cosa succede esatto allora per esempio possono essere persone che danno tantissimo al lavoro e si rendono conto a 45 50 anni che hanno un vuoto si rendono conto che il lavoro non per quanto gli possa piacere il lavoro che fanno quindi non è un problema del lavoro però hanno un vuoto nel resto della vita questa è la cosa è un problema di equilibrio è un problema com'è la loro vita in questo momento nelle varie aree della vita ce ne racconti uno l'esercizio che facciamo fare sempre la ruota della vita per cui si tratta di disegnare un cerchio dividere in otto spicchi diamo delle etichette a questi otto spicchi che sono denaro le relazioni la famiglia il tempo libero il lavoro la parte finanziaria forse si denaro si denaro c'è il lavoro sono otto aree tu le hai fatto io ho fatto sì sì ok e si dà dopo vi dico cosa si dà l'esercizio e l'esercizio lo facciamo fare in sessione quindi quando sono con noi le persone perché è un esercizio che va fatto di getto io devo dare un punteggio per ogni area devi dare un punteggio per ogni area e devi dire in questo momento il valore il voto che tu dai a quell'area non quello che ti piacerebbe non quello che vorresti quello che è in modo molto secco io gli faccio anche scrivere ecco uno degli esercizi fondamentali nel coaching è la scrittura perché tramite la scrittura si può tirare fuori tanto di noi e quindi io gli faccio anche scrivere descrivere anche con una frase in cui com'è in questo momento quell'area fatto quello gli facciamo fare lo stesso esercizio dicendo come ti piacerebbe che fosse questo spicchietto tra un anno e sono tutti dieci chiaramente no non sono tutti dieci dipende perché alcune aree non vuoi migliorarle magari alcune aree puoi non volerle noi per esempio diamo come aree la spiritualità ci sono delle persone che non sono interessate e che gli va bene che così poi magari un futuro ci riflette cioè questo è un esercizio che puoi fare ogni sei mesi ogni anno non è un esercizio fisso della vita perché la vita scorre alle sue su andavento per cui quello che per te è importante adesso può non essere tra un anno tra due anni quindi questo è già un esercizio per capire dove sono i punti su cui lavorare quindi comincia a lavorare su questo io gli faccio poi dire che gli chiedo con che priorità vorrebbero affrontare le aree critiche posso dire una cosa su questo esercizio che sembra semplice anche un po razionale no dai un punteggio all'area della tua vita non dici ma come può aiutarti questa cosa io l'ho fatto no è uno di quei casi in cui fare l'esercizio al di là del risultato fare l'esercizio già ti metti in una condizione di riflettere su te stesso l'obiettivo è quello di riflettere che probabilmente il problema di fondo di tutti che siamo immersi in tutto quello che facciamo no immersi anche nel non star bene al lavoro che non hai neanche non ti ritagli un momento per già già pensare già fermarsi e ti apre delle delle soluzioni assolutamente sì il la cosa importante del coaching oltre le sessioni che si fanno ovviamente con un professionista che ti aiuta concretamente ti dice quegli esercizi fare però il lavoro vero è quello che tu fai in sessione gli esercizi che va in sessione e che fai a casa quando comunque il coach ti dà una serie di esercizi da fare ed è sono i momenti che tu ti ritagli sono tutti i momenti tuoi di riflessione su te stesso ce ne vuoi dire un altro per degli altri che do da fare sono gli chiedo anche questo lo faccio all'inizio quando c'è da capire dove la persona vuole realmente andare gli chiedo di indicarmi cinque cose che che vorrebbe fare nella vita ma che non ha mai fatto cinque cose matte e folli che vorrebbe fare almeno una volta nella vita cinque cose che gli piaceva fare da bambino e che non fa più tutti questi esercizi ti permettono di di ragionare su te stesso anche di ricollegarti con te quando quando eri bambino il riflettere sulle cose che ti piacevano fare da ti piaceva fare da bambino che hai perso magari che hai perso è una delle cose più efficaci per lavorare rimuovere i blocchi della creatività questo si ricollega anche alla via dell'artista uno degli esercizi che io do sempre da fare è tratto dalla via dell'artista sono le pagine del mattino che sono un incubo che sono un incubo si sono un incubo è vero ogni mattina scrivere io l'ho fatto ma tu hai fatto la via dell'artista ho letto il libro e ho fatto ho fatto poi ne parliamo meglio mi spiegate cosa che non lo so no poi lo spieghiamo meglio però le pagine del mattino sono veramente qualcosa di incredibile è difficilissimo perché ogni giorno è estremamente difficile poi mi correggerai però insomma l'hai fatto ogni mattina ti svegli e prima ancora di bere il caffè prima di fare qualsiasi cosa scrivi tre pagine a mano ok e puoi scrivere quello che vuoi e devono essere tre pagine esattamente scritte grosse magari no scritte normale no e però sono sono hanno un effetto incredibile incredibile io credo di essere di aver resistito per tre mesi e nonostante tu faccia lo sceneggiatore quindi si è abituato a scrivere ma è un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa fai una sorta di download dei pensieri li tiri fuori i pensieri è come io lo vedo come un detox è un po come tutti i pensieri che hai nella testa e questo funziona soprattutto a meno io l'ho visto su me stessa quando dei periodi neri quando dei periodi non lo fai tutti i giorni io non lo faccio a periodi lo faccio a periodi non lo faccio sempre ci sono dei periodi che mi metto lì e lo faccio ma soprattutto quando sei in una situazione di difficoltà è un problema e hai la testa piena di cose se tu fai quell'esercizio e scrivi tu stai tirando fuori dalla testa tutta una serie di negatività che metti nero su bianco che non vai a rileggere io non sono mai andata a rileggere le mie pagine del mattino e va bene qualcuna sì qualcuna sì e va bene così si è spaventato no era ossessivo però sì esatto c'è il rischio quello dell'ossessione però in quel momento tu stai tirando fuori il mattino loro in bocca il mattino loro in bocca tipo tre mesi shining sì sì hanno sono da rileggere è proprio una non deve neanche leggerle nessuno cioè vanno proprio chiuse nessuno deve vederle guarda tu parli di download no c'è stato un momento prima di mollare queste cose perché era veramente complicato cioè mi portava via molto tempo ma un'ora un'ora e mezza perché veramente certe volte non sapevo cosa scrivere e hai l'obbligo di completare queste tre pagine quindi ti trovi a scrivere e non vuoi scrivere al mattino loro in bocca e io scrivevo non so cosa scrivere anche quello capita però poi io sono un po diciamo maniaco no quindi volevo che questa cosa venisse bene quindi scrivevo mi forzavo di e verso la fine però c'era anche un discorso di upload adesso è difficile da spiegare e da rendere credibile però fondamentalmente durante il lavoro no dovevo scrivere delle storie fare delle cose avevo dei problemi mi addormentavo con quelle domande e la mattina scrivendo le pagine avevano le risposte ok io strano sì quello che ho visto anch'io è che nei momenti quelli più bui butti fuori tante cose negative quando sei un pochino più tranquillo e non hai quel problema in realtà quelle pagine diventano fonte di creatività io mi rendo conto che delle idee mi sono venute probabilmente venivano di notte e al mattino le tiravo giù cioè dipende anche dalla situazione che tu stai vivendo nel momento in cui scrivi le pagine che effetti ti dà questa cosa nel breve termine quando sei quando in periodo buio ti aiuta a liberarti in questo senso io dico che è un download di negatività e quindi ti lascia un po più il cervello libero per pensare alle cose positive e costruttive è come se tu stessi tirando fuori la parte che non costruisce la parte negativa no sulla creatività lo confermo cioè veramente hai dei momenti in cui hai delle piccole illuminazioni la cosa credo adesso ci aiuti tu è che lavori con l'inconscio o col subconscio allora l'idea è proprio quella di fare l'esercizio al mattino appena sveglio a letto cioè nel senso che tu ti svegli quando sei nel dormiveglia prendi il quaderno la penna e scrivi dovresti scrivere senza punteggiatura senza virgole senza se sbagli a scrivere una parola non dovresti neanche correggere la dovresti andare avanti perché dovresti essere talmente collegato al tuo intuito che viene giù fuori tutto da solo questa è un po la logica non sempre funziona così ecco c'è c'è un aspetto insomma importante sul coaching diciamo questi esercizi sono poi i compiti a casa chiamiamoli così no sono i compiti a casa ma è l'aspetto interessante dimmi se sbaglio del coaching che devi farli perché poi devi tornare io devo tornare da te a raccontarti cosa ho tirato fuori no sì c'è una come dicevi prima una relazione con una persona perché perché ti dico questa cosa perché spesso magari certi esercizi li hai sentiti letti in giro no magari uno ci prova ma non portano un risultato il coaching invece ti porta anche un po più al risultato perché hai un rapporto con un coach con una persona devi presentarti degli appuntamenti allora è un'assunzione di responsabilità direi che questa è la cosa fondamentale cioè tu ti stai assumendo una responsabilità nei confronti di te stesso di un'altra persona per questo che diciamo che è una relazione che si co crea tra il coach e il coach è un patto è un patto ti aiuto perché è una professione d'aiuto ti aiuto ma il lavoro vero il lavoro duro tra virgolette lo deve fare il coach ti vuoi di raccontarci qualche qualche esempio di coach giusto coach ok allora il primo esempio è una persona che ha fatto il master master vuol dire per diventare coach sì perché era in una situazione lavorativa di burnout era molto stressata aveva dei grossi problemi sul lavoro voleva lasciare tutto e quindi si era iscritta al master per per far diventare per cambiare professione cambiare completamente la sua parte professionale in realtà lavorando su se stessa nel master si è resa conto che la situazione di burnout in cui era ci si era un po anche infilata lei perché in realtà sul lavoro le piaceva le piaceva talmente tanto che aveva preteso troppo da se stessa rispetto a questo lavoro e quindi non riusciva più a starci dentro e pensava che la soluzione fosse quella di cambiare il lavoro in realtà ha lavorato su se stesse ha scoperto che doveva controllare meglio il suo modo di affrontare il lavoro e adesso a distanza di anni è rimasta nella stessa azienda dove lavorava era nelle char ed è diventato direttore di char quindi lei ha ottenuto di più lavorando meno e meglio sì questo risultato finale di questa di questo beh interessante questo sono persone che dedicano gran parte del loro tempo al lavoro e pensano che quella che ci sono tantissime persone che pensano che la loro vita sia al lavoro che pensano non hanno passioni hanno pochissime passioni o non riescono a esprimerle non trovano il tempo per esprimerle per cui io spesso volentieri faccio fare degli esercizi per lavorare sul tempo libero gli chiedo ma te cosa ti piacerebbe fare nel tempo libero ma delle volte basta dire ah no a me però piace cucinare bene perché non ti scrivi un corso di cucina e perché non viene spontaneo questo perché non viene spontaneo non lo so ma non viene spontaneo cioè guarda che io ho mandato tante persone a fare dei corsi di cucina perché gli piaceva cucinare c'è un altro business potrebbe essere no cioè alla fine dici ti piace quella cosa perché sembra scontato ma spesso non ci diamo l'autorizzazione a fare le cose che ci piacciono pensiamo sempre dover fare prima prima il dovere poi il piacere questa cosa penso che ci serve qualcuno che ci dica divertiti fallo guarda a questo proposito divertiti a questo proposito visto nel sito dell'accademia che uno dei corsi che tieni tu è questo corso che si chiama la via dell'artista sì che diciamo va proprio a raccontare quello che ci stiamo dicendo adesso cioè il fatto che noi non permettiamo a noi stessi di tirare fuori il nostro lato creativo sì e ci spieghi un po come come funziona questo questo corso che è molto molto interessante dura se non sbaglio 12 settimane allora la via dell'artista è un percorso tratto da un libro di giulia cameron che ha scritto questo libro che in realtà è un retreat che lei faceva di 12 settimane quindi prendeva questi gruppi di persone e li faceva stare per 12 settimane separati da soli tutto il tempo quindi proprio lo faceva in un posto chiuso cioè chiudeva in un posto le persone per 12 settimane però devi averle queste 12 settimane devi avere queste 12 settimane in realtà fatto così per noi non è non è fattibile quindi quello che noi facciamo a livello di percorso individuale è quello di percorrere fare il percorso di queste 12 settimane o come one to one con una persona quindi è chiaro che a quel punto sei completamente dedicato alla persona i tempi sono te li puoi anche organizzare e tutto però insomma fai tutto il suo percorso per arrivare a togliere soprattutto i blocchi della creatività che vuol dire? che vuol dire? i primi esercizi che a me piace tantissimo fare che sono proprio nel primo capitolo della via dell'artista sono un esercizio per andare a identificare i mostri della tua creatività quando fai fare questo esercizio in gruppo o anche alle singole persone vengono sempre fuori che le persone che hanno da quando eravamo piccoli perché vai sempre a lavorare sul passato da quando eravamo piccoli che hanno bloccato la nostra creatività sono sempre stati i nostri genitori o i nostri insegnanti io racconto sempre di me stessa faccio prima in prima elementare io avevo una maestra è vero che io ho una certa età quindi adesso dire questa cosa sembra che stiamo parlando di un altro mondo però avevo una maestra che in prima elementare ci dava gli scappellotti sulla testa era il suo angolo creativo diciamo quello era il suo angolo creativo a me l'ha dato una volta perché ha disegnato lei alla lavagna tre frutti non mi ricordo così aveva disegnato tre arance e io sul mio quadernetto da brava bambina creativo ho disegnato tre melo tre pero si è uscita dal tracciato sono uscita dal tracciato e lei mi ha tirato uno scappellotto questi sono esempi banali ma sono quelli che vanno a uccidere la creatività da bambini e prenderne atto questi sono proprio i primi capitoli della via dell'artista prendere atto e lavorare su quelli che sono i tuoi blocchi e su quello che da bambino ti ha intruppato se vogliamo in un modo di pensare o di essere sono esercizi che sono fondamentali c'è anche la storia non so se mi ricordo bene che tu sei mancina sì poi c'era l'altra storia che io sono la mancina corretta da mia mamma mia mamma non voleva che fossi mancina per cui quando tutte le cose che dove lei aveva che mi guardava aveva il controllo continuava a dirmi di usare la destra infatti io per esempio i denti me li sono sempre lavati con la sinistra perché mia mamma non mi vedeva lavare i denti probabilmente quindi facevo di testa mia con la sinistra di nascosto ma sì quindi tu per anni io per anni ho scritto con la mano destra però continuavo a cambiare la mia calligrafia perché non mi piaceva tutti mi dicevano che scrivevo zampa di gallina scrivevo malissimo in realtà a un certo punto mi sono stufata e ho cominciato a scrivere con la sinistra però mi sono accorta che la scrittura che io ho con la sinistra è quella a cui io tendevo di arrivare quando scrivevo con la destra era un blocco anche questo sono tutti blocchi quindi scusami in questo percorso al di là di questi esempi capisco mi fai un esempio di un blocco che hai intercettato insomma da qualche persona che è passata di lì ma allora i blocchi sono sempre quelli di non darsi l'autorizzazione sempre tanto è quello di aver paura o di essere troppo vecchio per fare determinate cose di non essere abbastanza bravo di non darsi l'autorizzazione a provare queste sono in questo senso se non ricordo male dal libro oltre all'esercizio delle pagine c'era questo esercizio dell'appuntamento con l'artista era molto interessante è molto bello l'appuntamento con l'artista lei dice di farlo una volta alla settimana di prendersi un po' di tempo da soli perché l'importante è essere da soli per trovare il nostro modo di alimentare il nostro artista bambino che può essere camminare tendenzialmente fare qualcosa con le mani fare le cose con le mani è molto legato alla creatività io ho degli esercizi che do da fare sono quelli di esplorare il mondo attorno a noi di prendersi il tempo intanto anche semplicemente di fare una camminata io la chiamo la camminata meditativa camminare in un parco senza nessun obiettivo semplicemente per il gusto di e lasciare andare i pensieri questo è un modo altri modi che a me piacciono di esplorare il mondo uno che a me piace tantissimo è quello di prendersi il tempo magari mezz'ora, un'ora e mettere l'attenzione su un senso che non sia l'occhio che non sia il vedere, il guardare quindi fare una camminata ascoltando semplicemente tutti i suoni ed è un esercizio di concentrazione molto molto importante perché non sempre ci riesci se tu stai attento solo al suono dopo un po' anche qui è come quando provi a meditare dopodiché il cervello va un po' per la sua strada però tu pian piano lo riporti e poi ti segni tutti i suoni che hai sentito ed è un esercizio per esplorare il mondo utilizzando dei sensi che normalmente non utilizzi quando andiamo in giro sì, certo che stiamo attenti ai suoni per non finire sotto una macchina e sentiamo però non è ascoltare non è ascoltare i suoni sì, sono tutte cose che risvegliano un po' il lato creativo ma anche proprio di essere umano che è contatto col mondo esatto, lo fai con i suoni e lo puoi fare con gli odori sì, l'altro giorno ho risentito ho comprato una colla ho annusato sta colla probabilmente è anche tossica cioè da bambini ci facevamo di colla tossicodipendenti da colla però ho preso questa colla l'ho annusata sai proprio come il film la Ratatouille e torna indietro immediatamente riportandolo indietro all'aspetto professionale ci hai parlato di tante cose tanti esercizi tanti insomma diramazioni quanta gente arriva e dice voglio cambiare vita voglio cambiare lavoro quanti poi lo fanno? allora arrivano tanti a voler cambiare vita e cambiare lavoro e tanti lo fanno si può fare si può fare c'è poi un corso che tieni che secondo me è un po' la somma di tutto quello che ci siamo detti che è il percorso su l'ikigai questa parola che sembra quasi un insulto ma non lo è basta andare in libreria adesso ci sono è pieno esatto, ci sono tantissimi eccetera e sembra una moda passeggera io ho letto un paio di libri e mi sembra invece che sia una cosa molto interessante e un po' anche sottovalutata ce la puoi spiegare in un secondo? allora l'ikigai è una filosofia giapponese in realtà nel Giappone c'è c'è da sempre questo tipo di di filosofia adesso è abbastanza di moda in occidente ma è stato riscoperto anche in Giappone non da tantissimo ed è legato al nome di una professoressa giapponese che io non mi ricordo sinceramente il nome dovrei andarmelo a ricercare insomma non è tanto questo il tema che ha lavorato per anni in un lebrosario e lei era affascinata dal cercare di capire com'era possibile che delle persone che vivevano in una situazione estrema come un lebrosario riuscissero a trovare comunque un senso nella vita e lavorando su queste con queste persone ha capito che il senso della vita sta tanto nelle piccole cose della vita da cui trarre gioia ogni giorno quindi questo è già un tema l'altro tema è di cercare di lavorare su se stessi per capire quali sono effettivamente le cose che ci danno gioia in modo da capire se è quello un po' l'obiettivo del corso se è possibile riuscire a trasformare questa intanto trovare qual è la spinta ad alzarti ogni mattina perché il tema è quello qual è la spinta ad alzarti ogni mattina che cosa ti fa alzare ogni mattina nella vita e capire come inserirla comunque nella tua vita perché l'importante è inserire questa cosa comunque nella tua vita magari può diventare un lavoro però ti raccontano anche di tante persone fanno l'esempio per esempio dei lottatori di sumo che ne arriva uno su uno so quanti però tutti gli altri che restano in quel tipo di ambiente che non diventeranno mai dei campioni ma ci restano comunque dentro lo fanno perché quello è quello che gli dà la spinta per alzarsi al mattino quindi l'importante è trovare e lavorare su quello anche a me ha colpito molto questo racconto dei lottatori di sumo è il libro quello di Ken Moggi esattamente faceva proprio questo esempio dei lottatori di sumo che anche a me è rimasto impresso tantissimo perché peraltro è una vita durissima loro fanno da servitori agli altri è una vita durissima poi si parla del Giappone quindi una regola è molto incredibile c'è un'altra cosa che mi ha colpito di questa filosofia perché mi sono reso conto di averla incontrata molti anni fa senza sapere che si chiamava così perché c'è un nel vario percorso che tu fai in questo corso ci sono delle cose che dici che sono dobbiamo trovare le cose che so fare bene le cose che mi piace fare le cose di cui il mondo ha bisogno e le cose per cui potrebbero pagarmi è un po' come lo schema iniziale sul diagramma della vita tu metti queste quattro coordinate il centro il centro diventa se lo becchi se lo riesci a beccare è il tuo ikigai comunque il tuo sì l'obiettivo è quello esatto ed è molto interessante perché facendo questa cosa io mi sono reso conto un po' di anni fa che ero tutto spostato su ok mi pagano ok e ok più o meno il mondo dice che lo so fare mi mancava tutta la parte mi piace e a cosa quello che faccio a cosa serve al mondo quella cosa lì era completamente facevi delle cose inutili peggioravano il mondo esatto peggioravano il mondo però ecco è un esercizio proprio anche dal punto di vista di cercare il proprio posto nel mondo e nel mio caso a cosa serve questa creatività per il mondo cosa stai facendo come dice Ed lo stai peggiorando e questa è una cosa molto interessante perché ti permette di creare un cioè di cercare un equilibrio dentro di te e secondo me questo dal mio punto di vista ti aiuta a coltivarla un po' meglio questa creatività e a darle un indirizzo più preciso e come dicevi tu giustamente la mattina ti svegli e hai una carica in più sì hai una carica in più perché se ti svegli al mattino e voglia di alzarti perché sai che stai andando a fare qualcosa che a te piace che è utile per il mondo e che può far diventare nel tuo piccolo il mondo un posto migliore è un bel motivo per svegliarsi insomma la cosa difficile almeno per me perché io proprio ero tipo San Tommaso qualche anno fa cioè tutto quello che non si poteva vedere toccare eccetera non esisteva quindi se tu mi parlavi di senso della vita ikigai ti mandavo a quel paese è difficile trasmettere questa 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 cosa ai tuoi c'è un sacco di gente che pensa ma ascolta ma dimmi come devo fare non fare la filosofia dammi il tutorial bravo allora il tutorial non esiste perché ovviamente non esiste perché ognuno deve lavorare su se stesso e torniamo un po' a quello che dicevamo prima in questo momento è molto più facile trovare persone che arrivano perché hanno problemi di lavoro da risolvere perché il lavoro è un bisogno primario non c'è niente da fare si non gli dici scrivi così corri cioè quelle cose lì le trovi no no c'è anche quell'aspetto lavori anche su quell'aspetto pratico però e va bene però obiettivamente se uno ha un problema di lavoro da risolvere immediato è difficile che pensi a trovare il senso della vita ci sono dei tipi di percorsi che sono tipo quello piuttosto che anche la via dell'artista che sono più facilmente affrontabili da persone che un minimo di equilibrio l'hanno raggiunto se stiamo parlando di persone che sono fortemente in disequilibrio è difficile che gli fai quel lavoro lì prima gli fai magari un lavoro per aiutarli a essere un po' più in equilibrio quando sei più in equilibrio riesci a dire sì però effettivamente quel lavoro non mi soddisfa però non mi soddisfa cioè è un concetto diverso dal dire un problema sul lavoro se si passi da una sorta di disperazione iniziale disequilibrio a un equilibrio quando sei in equilibrio puoi vedere con occhi diversi esatto la via dell'artista per esempio io sono convinta che sia un percorso bellissimo anche da fare per dei manager che hanno bisogno di inserire la creatività nella propria routine la creatività è al terzo posto delle competenze che il World Economic Forum ha individuato per il 2022 un altro articolo che mi ha girato Fede ieri era il primo su Linkedin era il primo tra i più cercati di Linkedin era il primo come soft skill la creatività è la creatività quindi assolutamente sono skill che servono sicuramente alla persona alla singola persona per vivere meglio e per vedere il mondo in un modo migliore e per fare delle cose per lavorare mettendo insieme bene la parte destra e quella sinistra del cervello bloccare la creatività serve anche a quello a far comunicare meglio diciamo parte destra e sinistra del cervello quella razionale quella più intuitiva e questo è un tema ma anche come competenza manageriale la creatività è al terzo posto tra le sì diciamo che il quadro è che moriremo tutti perché le macchine ci uccideranno ma invece voi che ascoltate questo podcast state puntando sulla creatività avete delle buone chance di sopravvivere fino a prova per ora le macchine non possono fare quello che facciamo noi con la nostra creatività questo no questo per ora purtroppo diciamo tra poco diventerà difficile non lo sappiamo però diciamo sicuramente è qualcosa che distingue dalla macchina ok l'ultimissima cosa come passiamo a convincere Edoardo a tenere il diario della gratitudine perché ogni volta che ne parliamo da domani inizio aspetta faccio così oggi mi compro la Moleskine così faccio già ho fatto un passo avanti stai procrastinando esatto assolutamente adesso usciamo andiamo a comprare la Moleskine insieme vuoi vedere che la compro e inizio a scrivere ma tu lei non l'hai più fatto perché è una rottura di balle e vuoi farlo fare a me io lo continuo a fare lo faccio dal primo gennaio 2014 ho detto che l'hai fatto tre mesi la gratitudine la gratitudine è più veloce e il tema della gratitudine è che scatena l'abbondanza la gratitudine essere grati per le cose che abbiamo ti mette in una predisposizione a ricevere ancora di più anche questo sembra che sto parlando di tarocchi però è verissimo io lo so però io al mattino mi sveglio no la sera la sera no 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 guarda non hai proprio scuse sono tre cose da scrivere ho Netflix una puntatina di Netflix ma ci metti un minuto e mezzo ci metti un minuto Linda grazie mille grazie a voi voi me la fate risentire prima di mandarle a Linda hai paura cazzo no sei terrorizzata sì sono terrorizzata l'ho detto a lui non l'ho mai fatto io continuo a menarla di uscire dalla propria zona di comfort di fare cose nuove perché è la creatività si stimola facendo cose nuove facendo cose diverse facendo cose che non hai mai fatto e per cui non potevo dir di no